giornalisti, giovani e veterani, cominciamo con Fiorenzo Cravetto, buonasera buonasera a tutti direttore della Gazzetta di Saluzzo, già capo dello sport delle pagine della stampa continuiamo, politico, giovane e emergente, vicino al sociale e tifoso della Juve Luca Deri buonasera a tutti ciao, bentornato l'altra volta come era andata a finire due giorni dopo? era andata bene era andata bene? sì, abbiamo pareggiato beh, è andata benino era andata benino, considerato che la Juve è ancora imbattutissima poi, a furor di popolo, abbiamo deciso di invitare anche una giovane giornalista che tifa per il Napoli ma lo fa con sportività benvenuta Ilaria Giuliano grazie, buonasera, buonasera a tutti i tifosi da casa ciao Ilaria, che fa parte del club Cuore Azzurro di Cambiano, tifosi del Napoli del Napoli, benissimo un bel ritrovato anche a Giuliano Adaglio ciao Giuliano ciao Cristiano, buonasera a tutti esperto di calcio internazionale reduce dalle glorie giornalistiche milanesi meno male che sei tornato a casa ma sì, per ora per ora, per ora, certo e poi, ben trovato Marco Spadavecchia, giornalista, autore televisivo ciao Cristiano, buonasera a tutti ciao Marco e infine il ritorno del filosofo del calcio Patrizio Brusasco sono qua, a proposito di filosofi, ho visto che il filosofo allenatore del Barcellona è stato un po' massacrato dall'ultimo libro di Ibrahimovic sì, però Fiorenzo, vi è in aiuto, Ibrahimovic scrive quello che vuole in svedese nel suo libro, dove dice che Guardiola aveva paura di Murigno è vero o è qualche sassolino di Ibrahimovic? ha detto tecnicamente che se la faceva sotto ma io penso che l'ultimo, diciamo, dei giocatori che poteva essere compatibile con il Barcellona, con il gioco della filosofia del Barcellona era e rimane Ibra, Ibra è un mattatore assoluto, ma molto più di Messi c'erano già troppi galli nel pollaio Messi aiuta le squadre a vincere, le fa grandi, ma per esempio con l'Argentina abbiamo vinto Ibra è il leader, ha vinto lo Scudetto tutti gli anni vi ricordate quegli Scudetti? certo che una squadra di Torino aveva vinto anche quei due Scudetti meritatamente Ibra sosteneva, si diceva, io sono una Ferrari e te mi fai andare con una 500 beh, comunque vedremo quando il libro sarà tradotto dallo svedese all'italiano, sarà sicuramente un successo io credo che si possano trovare libri più interessanti che l'autobiografia di Ibrahimovic ti fai fare un saluto, devo salutare due persone Roberta Giordano, che è tifosissima della Juve, chiede asilo politico qua glielo daremo e poi per confermare che questo programma, tutti i programmi di Quarta Rete si vedono anche a Tokyo voglio salutare Nadine di Volvogrado che ci sta seguendo allora dico, hi Nadine, how are you? see you very soon by chatting next time eh? com'è? a Volvogrado o a Tokyo? no, a Volvogrado ah vabbè comunque, saluto a tutti quelli che ci seguono, canale 11 sul Piemonte www.quartarete.tv per tutti quelli che ci possono e ci vogliono guardare dal computer io naturalmente oggi ne approfitto per mandare un saluto agli amici di Genova e della Liguria forze coraggio, immagino quante trasmissioni stasera sarebbero state dedicate nelle tv locali di Genova, al Genoa e alla Sampdoria e credo invece che stasera abbiano purtroppo ben altri argomenti ben più gravi di cui occuparsi credo che su questo siamo tutti d'accordo quindi dedichiamo nel nostro piccolo questa trasmissione agli amici di Genova e della Liguria noi portiamo in tv tutti quelli che di solito la tv la guardano per cui l'invito a venire in tv è sempre valido l'unico requisito necessario è sapere chi è attualmente il numero 10 della Juventus